Archiviata la vittoria a Casalinga con la Gulliver d'Artona, la MBC Servizi Arezzo sarà impegnata domenica 10 marzo alle 18 sul campo del College Borgomanero. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della società piemontese. Borgomanero ha chiuso la prima fase al settimo posto con 22 punti, portandosene dietro 6 per questa seconda fase, dove ha esordito con la sconfitta di misura acquarrata sabato scorso. È una delle realtà di basket giovanile attualmente più importanti del panorama cestistico italiano, nonché vice campione d'Italia nella categoria Under-19 eccellenza. Attorno all'esperto Benzoni, capo cannoniere della squadra con 426 punti segnati, ruotano tutti i componenti dell'attuale formazione Under-19 di Borgomanero, capolista del proprio girone di categoria, tra cui spicca il 2005 Ferrari. Da segnalare nelle fila della formazione di coach di Cerbo poi anche la presenza dell'ex ba Adriano Bazan, classe 2006. Per la MBC Servizi dunque un importante appuntamento in Piemonte domenica alle 18, quando al Paladon Bosco sarà alzata la palla 2 tra Iamaranto e padroni di casa del CRT Group College Basket Borgomanero.